Ciao e benvenuta a Personal Trainer Podcast, l'unico podcast che porta il Personal Trainer a casa tua. Oggi dico unica perché la puntata sarà completamente dedicata a voi donne. Quello che voglio farvi sapere prima di ascoltare questo podcast è che siamo gli unici che ti permettono di imparare ad allenarti e mangiare in maniera corretta ascoltando semplicemente il podcast dove e quando vuoi tu. Abbiamo deciso di creare questi file audio perché sappiamo quanto sia difficile leggere un articolo oppure guardare un video che ti obbligano a stare appiccicata davanti allo schermo e ti fanno perdere un sacco di tempo. Ora non hai più scuse per iniziare ad allenarti, puoi ascoltare i nostri consigli ovunque tu sei e qualunque cosa tu stia facendo. Mi raccomando però magari non ascoltare il nostro podcast a tutto volume a fianco al tuo marito mentre sta dormendo, questo non lo renderebbe molto contento. Vediamo di cosa andremo a parlare oggi. Oggi parleremo di allenamento al femminile e per la precisione di come mai non stai dimagrendo pur ammazzandoti di allenamento in palestra e ti spiegheremo anche come invece dovrai allenarti in maniera corretta. Quali saranno i punti chiave che andremo a trattare? Andremo a trattare e scopriremo qual è il segreto per sapere quanto grasso bruci in un'ora di allenamento. Molto interessante, vero? Andremo a scoprire perché correre non fa dimagrire, perché non devi andare a correre con tuo marito soprattutto, perché i tuoi ormoni non ti fanno dimagrire se ti alleni in modo sbagliato e come eliminare la ritenzione idrica per sempre. Nel nostro podcast scopriremo molte altre cose oltre a queste che vi ho appena elencato, ma mi raccomando no maschietti perché oggi è il podcast dedicato solo e riservato solo per voi donne. Lo so che qualche maschietto comunque cercherà di ascoltare questo podcast. Mi fa piacere che voi siate interessati, però oggi mi raccomando, donne tenete alla larga, mariti e fidanzati perché è tutto dedicato a voi. Per chi non mi conoscesse, io sono Roberto Pusinelli, sono un personal trainer specializzato in dimagrivento e anti-aging. Sono anche autore del libro Torna in forma in 12 settimane, che è un percorso che appunto in 12 settimane ti permette di arrivare dalla poltrona a ottenere il tuo risultato. Mi occupo di dimagrimento da ormai più di 15 anni, da quando stufo di essere grasso decisi di studiare tutto ciò che mi capitava sotto mano per capire come potessi ottenere il risultato, come potessi perdere peso nel più breve tempo possibile. Nel mio percorso ho fatto un'infinità di errori, ho letto riviste tipo Menzelto, ho letto libri che erano inguardabili, se li ripenso ora. Ho ascoltato l'amico di turno, il palestrato che veniva insieme a me in palestra e che cercava di spiegarmi come poter ottenere il risultato, ma dopo anni di studi ed errori, due lauree e un master in nutrizione, sono arrivato finalmente a trovare il modo corretto e veloce per ottenere il risultato. È da qua che nasce la mia società di personal trainer, Undertraining. Se hai già visitato un po' il nostro blog www.undertraining.ch slash blog, Undertraining scritto Undertraining, dopo aver letto qualcuno dei nostri articoli magari ti sei fatta un'idea di quello di cui Undertraining si occupa. La nostra missione è quella di farti raggiungere il maggior risultato possibile con il minore sforzo possibile e soprattutto senza perdere tempo. Questa è una delle cose più importanti perché perdere tempo significa buttare via denaro e buttare via preziosi minuti che servono per, devono essere dedicate ad altre cose durante la giornata. Ma vediamo di chiarirci subito, come si suol dire, patti chiari e amicizia lunga. Minore sforzo possibile non vuol dire che non ti dovrai impegnare e non dovrai sudare, ma significa che non ti faremo mai fare qualcosa che non sia strettamente necessario per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi basta con ore e ore di estenuante palestra per perdere un solo chilo, basta con allenamenti 7 giorni su 7 senza ottenere miglioramenti nei tuoi risultati, basta mal di schiena dovuto ad allenamenti scorretti. E vuoi sapere perché possiamo prometterti tutto questo? Devi sapere questo, devi sapere che il nostro centro è l'insieme di un gruppo di professionisti del settore, ognuno di loro è specializzato nella soluzione di un determinato problema. Vuoi eliminare quei chili di troppo che sembrano incollati le tue natiche e ti fanno vergognare quando ti presenti in spiaggia? non hai nessun problema, il nostro personal trainer specializzato in nutrizione e di maledimento si prenderà cura di te e ti renderà orgoglioso del tuo corpo. Farà questo preparando ad esempio un piano alimentare adatto alle tue esigenze, basandosi sui tuoi gusti personali. Nella nostra sede ti verrà fatta soprattutto una valutazione approfondita di massa magra e massa grassa che permetterà a noi di posizionare i nutrienti corretti nel momento più adatto della giornata, a seconda della tua morfologia corporea. Ti faccio un esempio che può risultare un po' strano. In un caso specifico, ad esempio per perdere grasso a livello addominale, potresti avere bisogno di carboidrati alla sera. Questa è una delle cose che tutti mi contestano. Ma come? I carboidrati alla sera? No, ma fino adesso ho saputo che i carboidrati vanno mangiati solo nella prima parte della giornata. Ebbene, questa è una delle dicerie che si sentono in palestra. Magari proprio tu avresti bisogno di utilizzare i carboidrati alla sera. Sai, siamo nel 2016 e forse è il momento di affidarsi ai test scientifici fatti da professionisti piuttosto che al consiglio di quella magra, quella bella, quella super snella che non ha un filo in cellulite e che si sta allenando di fianco a te in palestra e che tra una serie e l'altra ti dice guarda basta che togli il pane e in un mese perdi 3-4 kg. Basta con queste sciocchezze. Bene, ora veniamo al sodo e andiamo finalmente a trattare i primi due punti che abbiamo visto in precedenza. Andiamo a trattare qual è il segreto per sapere quanto grasso bruci in un'ora di allenamento e perché correre non ti fa dimagrire. Allora, prima di tutto andiamo a capire perché correre non fa dimagrire. Tutti mi chiederanno, ma come correre non fa dimagrire? Ma come? Ma io ho visto il mio amico che è andato a correre, ha perso 20 kg dopo 2-3 mesi, 4 mesi di allenamento, comunque continuava a bruciare e continuava a perdere. Allora, attenzione che stiamo parlando della classica corsa di lunga durata o delle ore e ore passate su una macchina cardio in palestra. L'immagine che dovete avere in mente è quella di una ragazza che si mette sul cardio, comincia all'inizio della stagione dove vuole iniziare a perdere quei 4-5 kg, poi inizia la stagione e magari arriva all'ultimo negli ultimi 3 mesi e vuole ottenere il miracolo. Ma comunque in quei 3-4 mesi la vediamo salire sul tapirulano e non perdere un etto, anzi delle volte la vediamo anche ingrassare un poco. Questo perché? Prima di tutto devi sapere che durante un'attività cardio dal 50 al 70% della tua frequenza cardiaca massimale, per calcolare la tua frequenza cardiaca massimale puoi fare un semplice calcolo, 220 meno la tua età, quello sarà la tua frequenza massimale e per calcolare la percentuale basta moltiplicare per la percentuale di lavoro desiderata. In questa percentuale di lavoro, quindi 50-70% della frequenza cardiaca massima, il tuo corpo consuma circa il 60% di energia dai grassi, quindi camminare, danzare o camminare in montagna fa consumare circa 140-180 kcal ogni mezz'ora. Calcolando che il 60% di quell'energia viene dai grassi, consumerai circa solo dagli 8-12 grammi di grassi in 30 minuti e il doppio in 60. Capisci bene che è veramente poco. Infatti per consumare un grammo di grasso dovrai bruciare circa 9 kcal. Andiamo a vedere un'altra tipologia di allenamento perché mi potrei dire adesso qua, ok va bene, dal 50-70% della frequenza cardiaca massimale io consumo veramente poco, ma se mi metto a correre più veloce e cerco di correre sempre più veloce? Allora aumentando le pulsazioni fino al 75-80% della frequenza cardiaca massima, che è una frequenza cardiaca ancora sostenibile, il consumo calorico è di circa 295 kcal con un consumo di grassi di circa 12 grammi. Attenzione, il consumo di grassi come hai visto è molto simile a quello precedente. Cos'è cambiato? È cambiato però il consumo calorico. Il consumo calorico è decisamente aumentato e mantenendo l'ingestione di calorie più basse, poi così, in questo modo, facendo un tipo di corsa a una più alta frequenza cardiaca, mantenere, attivare i processi che fanno iniziare quello che è il dimagrimento. Come abbiamo visto nel podcast precedente, potresti utilizzare la strategia di allenamento ad intervalli, quindi aumentando l'intensità per un certo periodo di tempo, facendo seguire poi un tempo di recupero abbastanza prolungato per permettere all'organismo di essere pronto nuovamente ad eseguire uno scatto ad elevata velocità. Ma è così proprio semplice? Guarda, purtroppo no, ma soprattutto questo nella donna, perché purtroppo voi donne avete una sfortuna e fare attività fisica per voi che fa intervenire in modo intenso gli arti inferiori rischia infatti di inalzare la produzione di acido lattico nella zona e, di conseguenza, richiamare più liquidi in quella parte e se il tutto non verrà riportato nelle condizioni preallenamento, potrebbe creare un aumento della ritenzione idrica. Con il passare del tempo, inoltre, potrebbero svilupparsi quei preoccupanti processi infiammatori che portano poi alla cellulite. Hai capito ora perché devi cercare di evitare di andare a correre per ore e ore e, per quanto riguarda l'allenamento agli intervalli, devi programmarlo in maniera corretta per evitare che ci sia un'elevata produzione di acido lattico. Oltre poi a questo primo fastidiosissimo inconveniente, fare attività fisica di lunga durata utilizzerà come materiale energetico carboidrati e grassi principalmente. Ma, se vi ricordate che abbiamo parlato anche di questo nel podcast precedente, una volta svuotate le riserve di carboidrati all'interno del tuo fegato e dei tuoi muscoli, inizierai a consumare in maniera consistente anche le proteine che verranno prese, purtroppo, e qui dico veramente purtroppo, dalla tua preziosa massa muscolare. La massa muscolare, infatti, è preziosissima per mantenere elevato il metabolismo e soprattutto ti permette, mantenendo elevato il metabolismo, di consumare più calorie durante la giornata. Se diminuisce la massa muscolare, sarai costretta a mangiare di meno, rischiando comunque di ingrassare. Entrerai in un circolo vizioso da cui non riuscirai più a uscire. Ahi te, purtroppo, questo è quello che capita alla donna. Ti trovi purtroppo già nella situazione? Sei già entrata in questo circolo vizioso da cui non riesci più ad uscire? Allora, fortunatamente c'è un modo per cambiare questa tendenza. Il modo è quello di utilizzare una metodologia di allenamento del respiro che abbiamo messo a punto io e il mio staff di Undertraining. Infatti, tramite un particolare strumento usato con regole ben precise, potrai aumentare il livello del tuo GH. Il GH è l'ormone della crescita, dell'ormone che permette di costruire più muscolo e bruciare più grasso. Se vuoi saperne di più, scrivici a info-undertraining.ch per avere una consulenza gratuita. Ascolta, non è che non vogliamo dirti come funziona, ma il lavoro è un lavoro prima di tutto segreto, nel senso che comunque è una cosa che abbiamo creato noi e stiamo cercando di espandere e portare avanti. Lo portiamo avanti già da parecchio tempo e vogliamo condividerla solo con le persone realmente interessate. Inoltre, l'utilizzo dello strumento necessita di una fase di addestramento che da soli non si può fare. Visto che vogliamo farti capire come non arrivare fino a questo punto, adesso andiamo a vedere proprio perché, nelle altri punti che abbiamo visto all'inizio del nostro podcast, perché non devi andare a correre con tuo marito e perché i tuoi ormoni non ti fanno dimagrire se ti alleni in modo sbagliato. Uno dei metodi per ottenere risultati nelle donne, delle donne come te che vogliono perdere qualche chilo di troppo, diminuendo magari anche la ritenzione idrica e la cellulite, è quello di allenarsi con i pesi. Sento già la tua obiezione che mi entra nelle orecchie, ma io non voglio diventare grossa. Ascoltami, voglio dirti questo, non preoccuparti perché ora ti voglio spiegare perché non diventerai mai una Schwarzenegger al femminile utilizzando i pesi. Per prima cosa non sei ormonalmente predisposta all'aumento di muscolo e infatti a differenza dell'uomo cosa succede? Produci più estrogeni, quindi producendo più estrogeni rispetto al testosterone e l'ormone della crescita, che sono ormoni in grado di aumentare i muscoli, il problema dell'aumento della massa muscolare sarà veramente molto limitato. Questo è un vantaggio da una parte e uno svantaggio dall'altra, perché? Perché il GH, l'ormone della crescita, è anche un ormone lipolitico, come abbiamo detto in precedenza, cioè un ormone che brucia i grassi e quindi se hai un ormone che brucia i grassi in minor quantità rispetto all'uomo, riuscirai a consumarne sicuramente di meno. Sono ormai 15 anni che lavoro nel campo dell'alimentazione e del dimagrimento e con l'aiuto del mio staff ho sviluppato un programma di allenamento specifico per le donne. Vuoi scoprire cosa si tratta? Allora, per prima cosa ti dico, visita il nostro blog www.undertraining.ch.blog dove ti ricordo, Undertraining è scritto Undertraining, dove puoi trovare molte testimonianze al riguardo. Se vuoi invece sapere realmente quali sono i segreti per ottenere il corpo che desideri e per perdere peso nei punti in cui hai più difficoltà evitando la bruttissima ritenzione idrica, continua ad ascoltare il podcast. Ecco il segreto svelato, allora prima di tutto che cosa dovrai andare a fare? Dovrai andare ad allenare le gambe con due esercizi che fanno intervenire più muscoli, come ad esempio lo squat, l'affondo o lo stacco da terra. Io so che conosci già esercizi in palestra e quindi sai già allenarti, ma mi piacerebbe comunque darti una mano qualora non dovessi conoscere questi esercizi. Se non li hai mai eseguiti o non sei sicuro della corretta esecuzione, hai due possibilità. Uno, intanto puoi scaricarti il nostro ebook gratuito iscrivendoti al nostro blog www.undertraining.ch.blog oppure puoi contattarci a info-undertraining.ch per avere una consulenza gratuita ed esvitare spiacevoli infortuni che possono bloccare i tuoi progressi, magari utilizzando appunto questi esercizi che sono un pochettino complessi come esecuzione. Una volta scelti gli esercizi dovrai eseguire tre serie. Anche qua, che cosa sono le serie? Le serie sono il numero di volte che eseguirai lo stesso esercizio. Per ogni esercizio dovrai andare a eseguire da 6 a 8 ripetizioni. Le ripetizioni sono il numero di volte che ripeti lo stesso movimento. Ora, queste 6-8 ripetizioni dovranno essere eseguite a livello massimale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovrai arrivare all'ultima ripetizione in cui farai fatica a portare a termine l'esercizio. Quindi l'ultima ripetizione sarà quasi impossibile da eseguire. Attenzione sempre però alla tecnica, è molto importante. Fatto ciò, dovrai andare a recuperare in maniera completa per evitare la produzione di acido lattico. Per recuperare in maniera completa ci vorranno almeno 2-3 minuti per permettere alle tue gambe di smaltire tutte le scorie prodotte durante l'esercizio. Il secondo punto da tenere in considerazione è quello di ricordarsi appunto di fare qualcosa che mi aiuti a smaltire completamente quello che è l'acido lattico prodotto durante l'allenamento. Infatti ora è il momento di lavorare su una parte cardio utilizzando ad esempio una bike recline oppure se non ce l'hai a disposizione puoi israelarti a terra ed eseguire la bicicletta con le gambe in aria. Per ultima, ma non meno importante, mantieni le gambe distese in alto per 3 minuti. La durata della bike recline sarà di circa 5 minuti. Andiamo a vedere la terza fase del nostro allenamento che sarà la parte preponderante che andrà ad aumentare il tuo metabolismo e ti farà dimagrire. Ora sei davvero pronta per iniziare l'allenamento specifico per il tuo dimagrimento. Allora, scegli 3 esercizi per la parte superiore del corpo. Uno per i pettorali, uno per l'addominale e uno per i bicipiti. Esegui 3 serie da 20 secondi senza pausa e poi scegli altri 3 esercizi, uno di dorso, uno di addome e uno di tricipiti ed eseguili nuovamente per 3 serie senza pausa. Facendo così, i liquidi che sono rimasti nella parte bassa del corpo verranno completamente eliminati e dagli smaltiti correttamente dall'organismo. Pensi sia tutto qua, vero? Purtroppo no. Siccome si accumuli grasso nella parte bassa del corpo come la maggior parte delle donne sei molto probabilmente una persona che geneticamente fa fatica a bruciare i grassi e quindi se vorrai ottenere più risultati e risultati duraturi dovrai continuare a muoverti. Continuare a muoverti non significa massacrarti di lavoro. Infatti qua entra in gioco uno degli esercizi più semplici che esistono sulla faccia della terra che è quello della camminata, però va utilizzata con dei piccoli accorgimenti. Il primo accorgimento da utilizzare è ad esempio quella di camminare al mattino prima di fare colazione, prendendo prima dell'allenamento degli aminoacidi a catena ramificata cosiddetti BCAA per evitare l'utilizzo delle proteine muscolari. In che quantitativo? Diciamo che circa dovrai utilizzare 3-4 grammi di BCAA prima dell'allenamento in modo che appunto non andrai ad intaccare quelli che sono i tuoi mattoncini che costituiscono i muscoli. Ora capisci perché non devi andare a correre con tuo marito? Era un modo divertente per dirti che non devi assolutamente allenarti con una scheda uguale a quella dell'uomo. Quindi cominciamo ad allenarci a seconda della nostra caratteristica fisica con l'allenamento giusto per ottenere finalmente il risultato. Bene, siamo arrivati all'ultimo punto che credo sia uno di quelli che ti faccia un pochettino più piacere ascoltare. Quello perché? Perché finalmente andiamo a scoprire come eliminare la ritenzione idrica per sempre. Qua la ritenzione idrica la possiamo risolvere con dei trucchi molto importanti per te donna. Prima di tutto possiamo iniziare a camminare, quindi quando andiamo a fare la camminata o comunque quando siamo a passeggio o comunque quando siamo in palestra sul tapirulan possiamo iniziare a camminare a piedi nudi o con un paio di scarpe a suola molto bassa. In commercio ne esistono alcune come ad esempio, non so se ne mai sentite nominare, le Vibram Five Fingers che sono addirittura delle scarpe che permettono di avere le 5 dita divise l'uno dall'altro per percepire a pieno l'appoggio dei piedi al terreno. So bene che non sono esteticamente bellissime, però ti possono aiutare tantissimo per ridurre appunto la ritenzione idrica. Questo perché? Perché il piede è il nostro secondo cuore e permette il ritorno del sangue dalla parte bassa del corpo verso la parte alta. Infatti immagina, noi abbiamo la possibilità di spingere tramite il nostro cuore il sangue verso la periferia e poi riportarlo sempre tramite il cuore verso il centro. L'unico problema è questo, che spingere il sangue verso il basso, quindi in favore di gravità, per il nostro cuore è molto semplice mentre farlo ritornare verso l'alto diventa molto difficile. Ed è qua che entra in gioco appunto il nostro piede e quindi l'utilizzo dell'appoggio corretto al terreno. Infatti il piede è il nostro secondo cuore e permette il ritorno del sangue dalla parte bassa del corpo verso la parte alta. Se non hai un corretto appoggio del piede non potrai permettere il ritorno del sangue e dei liquidi verso il cuore e quindi avrai un ristagno nelle gambe che farà aumentare la ritenzione idrica. Inoltre l'allenamento delle gambe come abbiamo visto in precedenza permette di mantenere un tono muscolare adeguato per la spinta del sangue verso l'alto. Quindi se ci alleniamo in maniera corretta con i pesi possiamo ottenere anche un secondo effetto da questa spinta del sangue verso l'alto dei nostri muscoli. Se sei obbligata inoltre per lavoro a stare seduta o in piedi ferma per molto tempo ti consiglio di usare una calza compressiva che permette di spingere il sangue verso l'alto e quindi aiuta il cuore nel suo lavoro. Se invece ti è possibile continua a spostare il peso del corpo da un piede all'altro. Stando seduta invece per tanto tempo cerca di non ottenere le gambe troppo piegate e se puoi continua a far passare una pallina da tennis avanti e indietro sotto i tuoi piedi. Come ti dicevo in precedenza andare a stimolare la pianta del piede in modo corretto permette a un fascio venoso che si trova appunto sotto la pianta del piede permette di rispingere il sangue verso la parte alta quindi aiutare il tuo corpo a far circolare il sangue dalla periferia verso il centro. Nuotare o eseguire esercizi in acqua inoltre può permetterti di migliorare la tua circolazione sanguigna quindi eseguire anche un corso in acqua potrebbe aiutarti a ridurre quel gonfiore che è tanto fastidioso. Ricordati sempre alla fine della giornata lavorativa o dopo l'allenamento di portare le gambe in alto per favorire il ritorno venoso. Se sei in palestra alla fine dell'allenamento prima di fare ciò ricordati fai 5 minuti di ciclette reclinata o bike recline e 5 minuti di macchina cardio per gli arti superiori questo ti permetterà di aumentare l'efficacia del ritorno venoso. Quando fai la doccia o finisci l'allenamento usa sempre per ultimo acqua fredda sulle gambe in modo da aumentare la vasocostrizione dei tuoi vasi sanguigni e quindi il loro tono. Ultimi due consigli poi per oggi con questo podcast abbiamo finito sono due consigli per la tua vita quotidiana. Prima di tutto se vuoi evitare di avere le gambe come due prosciutti ricorda di utilizzare abiti comodi che non stringano troppo le gambe e che soprattutto non siano stretti in vita perché i pantaloni ad esempio stretti in vita bloccano il ritorno del sangue nella parte alta del corpo. Inoltre anche se sei più sexy con il tacco mi raccomando usalo solo in situazioni particolari perché ciò non permette di mantenere un corretto appoggio del piede. Sei soddisfatta di quello che abbiamo imparato oggi? Io spero di sì, spero di averti dato una buona quantità di materiale per eliminare per sempre il grasso in eccesso e per eliminare per sempre la ritenzione idrica e voglio ribadirti quello che abbiamo appunto imparato oggi che è stato il segreto per sapere quanto grasso bruci in un'ora di allenamento il perché correre non fa dimagrire perché non devi andare a correre con il tuo marito perché i tuoi rumori non ti fanno dimagrire se ti alleni in modo sbagliato e come eliminare la ritenzione idrica per sempre. Nella prossima puntata parleremo invece di allenamento per il dimagrimento dei maschietti sarò insieme uno dei miei trainer Matteo e quindi cercate di far ascoltare quest'altro podcast ai vostri mariti andate su iTunes, cercate, scaricate il nostro podcast che trovate come Personal Trainer Podcast oppure cercando il mio nome Roberto Pusinelli in questo caso vi sveleremo io e Matteo il segreto per tornare a vedere le punte dei piedi quindi voi maschietti che so che qualcuno di voi ci sta comunque ascoltando vi sveleremo la prossima volta come potrete ritornare a vedere le vostre punte dei piedi e per avere una consulenza gratuita in modo da poter velocizzare il processo del vostro dimagrimento ti invito a scrivere a info chiocciola undertraining.ch e mi raccomando sempre in forma e alla prossima puntata da il vostro Roberto Pusinelli un abbraccio e a presto ci sentiamo, ciao! Personal Trainer Podcast Personal Trainer sempre con te